Siamo finalmente arrivati a 10.000 iscritti e per ringraziarvi chiamerò alcuni di voi! Ragazzi sono troppo contenta di aver raggiunto questo obiettivo di 10.000 iscritti e non posso crederci che in così poco tempo da quando ho aperto il canale, cioè da quest'estate ho già 10.000 iscritti e sono troppo contenta e ragazzi non immaginate nemmeno quanto siano importanti per me tutti i vostri commenti vi voglio proprio un mondo di bene, sono veramente dolcissimi e ragazzi purtroppo non posso chiamare tutti voi perché sono veramente tantissimi numeri, veramente troppi e se avessi dovuto chiamarvi tutti allora avrei dovuto fare 4 video, un sacco di video per chiamarvi tutti quanti, però non riesco a farlo in questo video però chiamerò alcuni di voi per ringraziarvi ragazzi sono emozionata, adesso incominciamo e vabbè adesso li chiamo con il numero privato e non vedo proprio l'ora allora vediamo un po' ok adesso vediamo pronto? pronto ciao sono la tua professoressa di matematica certo addio vabbè ragazzi adesso richiamiamo perché è attaccato perché penso proprio che abbia pensato che fosse una persona qualunque che le abbia fatto uno scherzo e vabbè richiamiamo allora ok vabbè speriamo che non attacchi di nuovo pronto? pronto ma sei morti? sì allora indovina un po' chi sono io ok scusa no vabbè non fai niente non fai niente vabbè perché io non ci credo perché ti tipo ho fatto il video per mettere quello in storia e tipo io non vabbè 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 come stai bene bene grazie grazie ti piacerebbe stare in un mio video? bene tantissimo adesso sto registrando vuoi dire qualcosa? bene non lo so vabbè 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 ti saluto un bacio un bacio ciao va bene ciao ciao mamma mia ragazzi sono proprio sono più emozionata di lei vabbè devo dire che non se l'aspettava molto all'inizio c'è cascata cioè pensando che non fossi io però vabbè adesso abbiamo iniziato con la prima e sembrava molto sorpresa e niente un bacio e vabbè adesso andiamo avanti allora ragazzi ha risposto alla segreteria telefonica e vabbè mi dispiace molto che non ha potuto rispondere quindi la saluto in questo video così ciao Aurora si chiama Aurora e niente un bacione ok perfetto sono pronta adesso chiamiamo pronta pronto pronto ciao sei Gaia ciao ciao sono tu si sono io si sono io davvero non pensavo che avresti detto il mio messaggio sono troppo felice ciao vabbè come stai bene tu si anche io bene vabbè adesso sto registrando un video quindi sta nel mio video speravo tantissimo di essere chiamata sei una delle mie youtuber preferitina grazie mille grazie mille troppo simpatica e ho visto il video dei costumi da bagno ti stanno davvero benissimo grazie mille sei gentilissimo grazie un po' emozionata perché non me l'aspettavo eh sì si vede abbastanza che non te l'aspettavi vabbè sono contenta di averti chiamata grazie vabbè un bacione ciao ciao un bacio ok ragazzi adesso andiamo avanti con il prossimo pronto pronto ciao sono sotto a casa tua ti sto aspettando pronto ciao ma non mi riconosci più? ciao 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 perché cioè a un certo punto ciao ciao e poi ho appena tanto questa voce e mi attacca in faccia vabbè un poco insolita come una chiamata però vabbè magari lo richiamo per non lo so voglio vedere un po' cosa dice allora ok ragazzi pronto pronto ciao ma hai capito chi sono? eh è Sofia non so via si 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 sono io ciao non tu fan ah grazie grazie come stai? bene te? si anche io molto bene vabbè vabbè non so che dire va bene anche io grazie grazie mille va bene anche io so bene cosa dire vabbè eh vabbè vabbè allora ciao vabbè ok vabbè di niente vabbè allora va bene ok ciao e vabbè ragazzi che emozione adesso andiamo avanti con il prossimo numero e vabbè sono molto emozionata allora pronto? pronto salve ha vinto un premio oh mio dio Sofia ciao ciao hai indurinato io non ci credo vabbè non te l'aspettavi? no ah vabbè ti volevo fare lo scherzo ma non è uscito molto bene era quasi il giorno che aspettavo ah ho capito ah vabbè ecco perché hai capito allora si va bene sai adesso stai in un mio video sto registrando oh mio dio che figata oh mio dio non so cosa dire vabbè anche io sono molto emozionata non ti preoccupare vabbè vabbè come stai? bene te? sì anche io molto bene grazie grazie vabbè vabbè ma di di dove sei? Brescia ah ho capito vabbè vabbè allora niente ti mando un grandissimo bacio ciao va bene va bene a loro ok vabbè ciao un bacione ciao ciao vabbè vabbè anche io sono abbastanza emozionata però devo dire che vabbè niente nessuno di voi se l'aspetta tantissimo però vabbè ok ragazzi adesso andiamo avanti con il prossimo numero sono veramente emozionata allora ok adesso chiamiamo pronto ciao ma sei tu che hai ordinato le pizze no ah ok ma tu sai io chi sono? sì e allora chi sono? Sofia si è indovinato ciao come stai? ciao bene bene tu? tutto bene vabbè te l'aspettavi? eh no vabbè dai sei fortunata vabbè ti mando un grosso bacio come stai? bene quindi ma di dove sei? di sottienza ah ho capito vabbè comunque adesso sto registrando un video per youtube per youtube vabbè ok vabbè grazie ok di niente un bacio ciao 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 e ragazzi veramente sono troppo contenta veramente sono contentissima di essere finalmente arrivati a 10.000 iscritti mi mando un bacio a tutti voi grazie di cuore e ragazzi veramente mi dispiace tanto che non ho potuto salutare tutti eravate veramente in tanti però vabbè ragazzi saluto tutti voi con un grosso bacio e vabbè ragazzi spero tantissimo che vi sia piaciuto questo ho il singhiozzo vabbè ragazzi spero che mi passi vabbè spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video se vi è piaciuto mettete un bel like e se volete iscrivetevi al mio canale e il singhiozzo forse mi ha anche passato vabbè e vabbè adesso finalmente incominciamo con i saluti e allora ciao valli06 ciao ciao le mem di fil ciao eleonora ciao claudia ciao chiara ciao azzurra ciao alessia guagenti ciao giovanna ciao clelia ciao gege ciao belinda ciao cristina ciao semir ciao flavia ciao marta manna ciao greta ciao federica ciao sara ciao nadia ciao angelica forever ciao francesca ciao rosanna ciao miriam ciao benedetta ciao aurora ciao vittorigami 1964 ciao sofia ciao gaia ciao eleonora e infine ciao desirée e niente vabbè vi mando un grosso bacio di nuovo fortissimo e niente ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao